Un mercoledì nero per le scuole abruzzesi che finiscono al centro delle cronache per due incidenti che in un caso sfiora la tragedia e nell'altro causa tre feriti non gravi. A pescare il crollo dell'intonaco sulla testa di tre studenti durante la terza ora di una lezione all'istituto alberghiero De Cecco e a Villa Santa Maria in provincia di Chieti in una scuola primaria che esplode a mezz'ora dall'ingresso dei bambini per la fuga di gas in una caldaglia. Si riapre la polemica sui fondi tagliati causa Spending Review che ha ridotto le capacità di azione degli enti preposti. A pescare l'ex presidente della provincia, Guerino Testa, spiega che dal 2010 non era stato possibile contrarre nessun tipo di mutuo e dunque i fondi a disposizione erano insufficienti per tutte le richieste ricevute. E proprio al De Cecco erano intervenuti per un analogo caso di crollo dell'intonaco inserendo delle reti contenitive in un'aula. Dopo l'incidente di tre giorni fa si sono mobilitate anche le istituzioni governative. Il ministro all'istruzione, Stefania Giannini, ha contattato il preside della scuola per conoscere lo stato fisico dei ragazzi feriti. Il giorno dopo l'attuale presidente della provincia, Antonio Di Marco, ha inviato una lettera al premier Renzi richiedendo un immediato finanziamento di 5 milioni di euro per attuare la manutenzione di tutti gli istituti scolastici della provincia. Tenendo presente che attualmente i lavori di ripristino del De Cecco costeranno due o trecentomila euro e che nel budget del 2015 il capitolo scuole aveva a disposizione solo 525 mila euro per tutti gli istituti. A Villa Santa Maria, in provincia di Chieti, situazione analoga. La scuola Benedetto Croce, che ospita elementari e medie, esplode per il malfunzionamento di una valvola della caldaia. Caldaia o meglio caldaie erano due recentemente messe a norma dal comune con una spesa di circa 100 mila euro per un comune che si trovava a gestire un disavanzo di 800 mila euro. Nello specifico nella scuola si era proceduto a rifare l'impianto antincendio, il locale caldaie e la messa a norma su segnalazione dei vigili del fuoco. Un incidente che secondo i vigili non poteva essere né previsto né evitato, visto che non esiste manutenzione per quel tipo di valvola. Quella che regola l'erogazione del gas e nello specifico si parla di GPL. Il sindaco Finamore, scampato il pericolo, ha già mobilitato tutte le forze per ripristinare in brevissimo tempo l'istituto. Ricostruito il locale caldaia e messe in sicurezza le mure. Lunedì dovrebbero arrivare le nuove caldaie e con grande probabilità giovedì la scuola riaprirà i suoi studenti, battendo ogni record di celerità. Nel frattempo gli studenti sono stati spostati nell'istituto comprensivo di quadri, che al momento offre i posti dei ragazzi partiti per la settimana bianca. E infine si lascia andare una dichiarazione liberatoria. Nella sfortuna siamo stati fortunati, meno male.